delivery as the moon andiamo avanti siamo arrivati al punto che dobbiamo riattivare l'energia ah siamo usciti e per quello che mi diceva il gioco sei sicuro di voler uscire di qua si vabbè ha fatto una scala vai su dritto ora ragazzi ritorniamo sul capitolo ah si qui era ok lì non c'è nulla a chiuso allora vogliamo chiudere secondo me dobbiamo andare io richiedo ragazzi ok quindi ho chiuso tutto ho fatto il giro scusa ma sta tornando giù o è un altro un altro punto della nave eh non lo so non vorrei che sto andando giù sempre dalla stessa parte fammi vedere un altro perché mi perdo un po' mi perdo ok chiuso ho chiuso no io credo mi sono arrivato da là quindi sto ritornando giù dalla stessa parte caspita sei lì? qui c'è una botolossa allora qua niente qui c'è questo ascensore spaziale non vedo niente non va ah facciamo infine sotto sopra mi sta devastando questa è la qua ma non credo qui c'è il non vedo la non vedo non vedo non vedo e poi andiamo andiamo il rotazione è attivato ascensore spaziale cos'è successo? ma come? ah beh dai si è spacciata tutta la nave benissimo bene ma non benissimo ti è spaccato un pezzo ok hai detriti porco schifo no ma porca la miseria troppo poco troppo poco il tempo raga sì sì questo ce la faccio credo che sia la tutto molto al velo ah ma credo che si sia spaccata un pezzo caspita questo punto è adrenalinico no caspita ma ero entrato ma perché non ha chiuso subito la porta stu scemo niente tutto da capo e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma cosa devo fare quando entro? E' questo che... Devo andare dritto? C'è il bussante... Dai, Marco... Non hai visto il bussantozzo? Ah, l'anello si è spasciato! Incredibile... E lì cosa c'è? C'è la punta? Mi ha portato qui... Controllo MPT... Hai capito, raga? Ah, ritorniamo sulla Luna siamo... Obiettivo... Recupero l'unità ASE per accedere al centro di controllo... Beh... Se mi fanno uscire... L'ascensore spaziale ha migliorato la logistica e il trasporto di persone provviste da e diretti alla Luna... Quando si è verificato il blackout e il 54, i membri dell'equipaggio della stazione sono stati inviati giù con l'ascensore per indagare sull'emergenza... Ok, ho fatto un ascensore che va sulla Luna... Fico... Così dalla terra... Ah, forse c'è un database qui, aspetta... L'avevo visto... Dalla terra... Eh... Allora... Stazione molto bassa... E via il diagnosi... Si... Chi apri porta e una la porta... Lunare Copernicus... Hub Lunare Copernicus, raga... Qua arrivano le scatole... Qui è tipo... C'è con tutta la roba che c'è... Hello? Hello? Sembra vuoto... Sembra vuoto... Non ho mai visto la base così... Ha trovato tracce termiche? No, niente... Questo non può essere certo... Sento due, perché riesco a scoprire... Sara... Le verremo a capo, Sara... Sì, sì... Grazie per aver entrato entrambi... Durante il blackout... Capitano, squadra di spedizione... Dovreste... Avete solo 40 minuti... Infatti... C'è un problema... Al centro come va la MPT... Ok... Isac era devastato... Scoprì... Ha morto... Di sua moglie... Durante una tempesta di sabbia... Sulla terra... Giuntante idea... Di lasciare le due figlie... In preda... Al peggioramento delle condizioni... Raggiunge sulla luna... Claire rifiuta... Preoccupato per la sua salute... Prende cura della sorella... Finchè Isac... Non esercita la sua influenza... Per ottenere la custodia... Così poco dopo Kelly... Viene trasferita sulla luna... Ah ok... Ce n'è un sacco di sta roba... Ah... La ragazzina giocava qua... Mi perdo... Mi perdo... Mi perdo raga... Questa chi è? Williams... Allora... Un rapido aggiornamento... La... Barahonda... Non deve più accadere... Non voglio esserci nulla a che fare... Allora possiamo iniziare più presto... È il momento che prendiamo la decisione... Cosa che su un balzo in avanti... Avviene... Senza un sacrificio... Uh... Servizi segreti... Sur... Eccellente... E questa è rosa... Una rosa alla verde... Urca... Obiettivo... Copertura... Non ci sono più riserve... Ragazzi... Migliora... Scienziati... All'imminente missione... Per colonizzare la luna... Riempito... Fine... Consiglio di lunare... Creato coordinate... Sforzi WSL... Sulla luna... Consiglio di due posizioni libere... Caspita... Ho sempre più... Più paura che dobbiamo davvero... Fare una roba del genere... Ragazzi... Allora... Obiettivi... Vivi... Torno a terra... Iniziale più... Un gemiante... Una vera... Qui penso è dove parlava... Vediamo... WSA... Bella... Bella... Immagine di gioco... Bella immagine di gioco... La luna... WSA... World Space Agency... World... E... Lui con... La sua bella tuttazza... Si può avere un goccio d'acqua? Quindi... Lui sta andando... Ah... Questo non si può... William... E... 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 Andiamo un attimo... Bella... Non c'è nulla da fare sulla luna... Ah, lui è proprio il... Ah, lui è proprio il momento. Questo non sarà necessario. Voi con me. Tu sei seriato? Ha perduto il tuo mente? No possiamo lasciare la colonnai così, non durante questo blackout. Non con l'impianto del signo del M.P.T. ancora off-line. Ci persone di Earth dependiamo di noi. Non preoccuparti con loro. Ci sono già passati. Ci sono già passati. Ci sono passati l'atterezza. Ci sono stati l'atterezza. C'è l'accordo. Ci sono stati dovrebbero essere l'ultimo resort. Non ci sono stati l'atterezza prima e non ci sono stati l'atterezza ora. Quando la network è tornata online, possiamo proporre la Terra con l'atterezza di più. Ci siamo vicino, William. No, non ci siamo vicino. Non ci siamo vicino. Non ci siamo vicino. Se tu ancora pensi che possiamo potrezzare l'atterezza di Earth con il M.P.T., tui più delusionali di quello che pensi. Abbiamo una ultima speranza, e è l'atterezza. Ora, preparate, perché siamo andati. Non ci sono state. Non ci sono state. Non ci sono state. Non ci sono state. No, l'hanno portata via. Dopo un discorso inquietante, il membro del consiglio passa a prendere la sua collega, la dottoressa, per partire un viaggio misterioso. In linea si rifiuta, ma però la prendono. Llevato mal funzionamento hardware. 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 Vabbè, è sempre quello, eh. Forse... Aspetta. Aspetta. Si può mettere... Qui. No, io andrei di qua. Il consiglio. No, io andrei di qua. Il consiglio. alla loro pazza, che vevrei? Qui ti año. Guardate. A presto. Ci sono晚i, l'aili di qui. Quessica? Ok, ok. Oh, non? di agnostica di ablunare, non riuscita che cos'è? necessario studio di aeroporto d'ingresso uno dei tre andiamo un po' in giro tabella di crescita ah ah, un dei tre è stato detto, aziona vabbè, magari c'era qualcosa di figo da fare caspita dov'è che vanno messi? alla fine dov'è che vanno messi? no 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 non è che proprio gli serve a tutto a lei ma siamo arrivati a ne presi due quindi secondo loro dov'è che si ripara la porta ma questa è la porta il bello è anche scoprire dove sono le cose perdo un sacco di tempo a fare questa roba non c'è nulla qui dire qua credo ai caspita non c'è nulla e vai sostituzione riuscita connessione di tempianto agononare riuscita oh riuscita inizializzazione diagnostica diagnostica ciao come facciamo girare l'asse rimuovere l'ala posizionare le parti del propulsore sul tavolo sostituire il propulsore rimettere l'asse a posto purka loca purka loca purka loca non c'è nulla 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 io voglio raccogliere questi vanno messi dove obiettivo sale componenti del professore ok è tutto dentro lì allora no 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 sarà così eh raga ok ok copiglia poi questo qui che c'ha il dentello poi ci vuole il questo secondo me ok poi ci vuole questo qui no 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 questo è l'ultima parte ci vuole il coperchietto se non è là e poi ci vuole l'ultimo pezzo ok sostituzione riuscita completo del protocollo vediamo sì inizio riavvio no mi sa che bisogna solo aspettare riavvio da che funzioni qualcosa se no pericolo sovraccarico generatore di energia blocco locale attivato e che pall richiesto di pristino eh non ripristiniamo mega robot come il cosino che segue dietro i destini i due e destini uno ok questo col destra e sinistra mi manda il cervello in papa te lo dico wow sto facendo tutta la tutta la base fricol 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 dov'è sopra qui ah gravissimo devo collocare annullato bravo alimentatore online ok allora siamo riusciti a far avviare l'alimentatore ok ragazzi allora io dico che ah è sempre a disposizione bello bello sta cosa dai continuiamo nel prossimo video faccio qualche video senza la sigla iniziale ragazzi non vi preoccupate ma perché lo voglio condividere subito ok vediamo un attimo questo è isaac isaac hi non 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 questo messaggio avrai 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 non credo avrai avrai tento avrai avrai abbiamo parlato avrai 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 che è segura e bene questo messaggio sarà l'ultima che avrai 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 di qualcuno qui qui, è probabilmente qualcosa che dovrai mai capire. No, non lo faccio. Se qualcuno trovi cosa è successo qui, sapete che ho fatto questo per lei, per la sua sorella, per darci una possibilità. Eh sì, ha fatto da solo la sorella. Eh sì, ragazzi, effettivamente è stato un bel dramma, poveraccio. Va bene, amici, visto che a questo punto non so cosa bisogna fare, ma credo che bisogna andare su di là. Io da Deliver of the Earth of the Moon Ma come si chiama sto gioco? Ma come si chiama sto gioco? Vi saluto e vi aspetto sul prossimo episodio. Sul prossimo episodio, vi aspetto, ok ragazzi? Vi aspetto al prossimo episodio di Deliver of Mars. Deliver of Earth of Mars. Incredibile, sono riuscito a pronunciarlo. Uno, due, tre. Questo è il terzo. Al quarto episodio. Vi aspetto, eh. Ciao amici. Mi raccomando di seguire il mio canale Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Discord, che lascio il link in descrizione qui nel video di YouTube. Linktree. Cliccate, ci sono tutti i link diretti ai vari social. Poi lascio il link di Twitch, dove faccio le live alle ore 21, tutti i giorni. E, ehm... E chiaramente, iscrivetevi a YouTube. Commentate mi piace. Datemi una mano, così cresciamo e facciamo delle cose fighissime insieme. Ciao da Marco Drums Games Channel. È tutto. Mitici!